Torna da domani in piazza municipio il villaggio della salute per la prevenzione e la cura del diabete e l'iniziativa promossa dal comune con l'associazione diabete Italia Onlus per informare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione di un corretto stile di vita. La manifestazione organizzata per la giornata mondiale del diabete si è aperta oggi con un dibattito in sala giunta ed ha visto la partecipazione dell'assessore al welfare Roberta Gaeta con i presidenti dell'ordine dei medici e dell'associazione medici diabetologi. La sedentarietà, l'inguinamento, la mancanza di camminabilità, questi sono i veri elementi che fanno aumentare sempre di più la prevalenza di diabete. Diabete è una malattia subdola, molto spesso asintomatica e che poi presenta dei conti molto salati con delle complicanze croniche estremamente invalidanti. 170.000 diabetici in tutta Napoli e provincia e questo numero tende ad aumentare sempre di più. Una leggera flessione l'abbiamo nelle altre province dove la vivibilità in qualche modo è più accettabile. L'associazione medici diabetologi che chiede alleanza soprattutto alle istituzioni, principalmente alle istituzioni comunali, per insieme promuovere la salute attraverso la promozione di stili di vita sano, soprattutto tanto movimento e una sana alimentazione. Sabato 17 e domenica 18 novembre in piazza Municipio saranno allestiti stand informativi sulla prevenzione del diabete e sulla sana alimentazione. Si potranno inoltre effettuare controlli gratuiti grazie al contributo dei medici volontari. Si continua a fare delle attività di prevenzione che l'amministrazione chiaramente sostiene, condivide e che quindi appoggia in queste giornate. Ancora una volta quest'anno giornate in cui medici, volontari e associazioni prestano la loro opera a favore dei nostri cittadini. Infatti nei prossimi giorni, sabato e domenica, saranno in piazza Municipio proprio con l'allestimento di questo bellissimo villaggio.